Ciao a tutti, siete pronti per la tradizionale televendita di promesse elettorali? Come avrete visto dai manifesti nelle città ci stiamo avvicinando alla campagna elettorale e ancora una volta la nostra classe politica che negli ultimi trent'anni ci ha portato in fondo a tutte le classifiche internazionali si prepara a formattare la mente dell'italiano. Gli strumenti sono tanti, immagini, faccione, parole, il tutto per farci dimenticare in questi 45 giorni di tutto quello che hanno combinato. Col gruppo di Milano abbiamo pensato a una semplice iniziativa, un antidoto per smascherare questo blef di liste, liste civiche, liste civetta, arancioni. L'iniziativa è semplice, si basa sulla nostra esperienza degli ultimi 18 mesi qui in città, da quando siamo stati eletti. E si chiamerà 50 sfumature di delusione arancione. È un'iniziativa social, quindi sulle nostre pagine Facebook. Ogni giorno, alle ore 12, pubblicheremo una delle 50, ne abbiamo ricolte 50 le più significative, promesse da parte della nostra maggioranza, dell'amministrazione cittadina arancione, a maggioranza PD, in frante durante i primi 18 mesi di mandato. Come per tutte le iniziative social, è fondamentale la vostra partecipazione, come facendo uno share su Facebook o un retweet su Twitter. In questo modo riusciremo a far girare quello che, rispetto alla campagna elettorale, al programma elettorale della nostra città arancione, si sta realizzando in Consiglio Comunale e nella Giunta. Quindi, retweet, share e ogni giorno, alle 12, sulle nostre pagine Facebook, condividete una delle 50 sfumature di delusione arancione e arriviamo pronti e preparati a non frarci abbindolare un'altra volta queste lezioni. Ciao a tutti! Ciao a tutti!